Dopo che hai collocato l'idea centrale, come vedi, qui hai due circonferenze con il simbolo più dentro. Come ti avvicini, compaiono dei simboli. Questi sono i comandi che ti permettono di costruire la tua mappa mentale. Vediamo come funzionano. Se selezioni il giallo, vedi che cambia colore anche al cerchio in base a dove muovi il cursore. Selezionando il giallo e a questo punto trascinando, costruisco un ramo con una struttura chiusa. Questo tipo di ramo serve quando dovessi inserire per forza un'informazione che non puoi racchiudere in una singola parola chiave. Immagina una piccola frase o una citazione e ti serve perché se no il ramo diventerebbe estremamente lungo. Quindi qui puoi scrivere e nota come il ramo possa rimanere corto senza diventare un ramo molto molto lungo. Vediamo invece che per costruire rami normali ti basta prendere il rosso. Trascini. A questo punto, qui hai già anche delle informazioni che ti aiutano nella costruzione. A questo punto puoi scriverci direttamente sopra. In questo modo costruisci il ramo e scrivi direttamente le parole chiave. Qui come vedi, per semplificare, scrivo parole a caso, inesistenti. Puoi scrivere ogni volta che vedi il ramo selezionato con i puntini blu sopra. Non è che devi scrivere oppure cliccare su inserisci testo. Adesso è selezionato e vedi che posso scrivere direttamente successivamente cliccando su invio. Quella parola resta sul ramo. A questo punto la cosa che noti resta ancora una funzione. Questa funzione serve per creare dei collegamenti tra rami che presentano analogie. Anche su questo ramo chiaramente puoi scrivere. Se questi fossero argomenti collegati tra loro per un qualche motivo, puoi scrivere su questo ramo e dopo vedremo come fare per modificarli. Questi sono i comandi principali che ti permettono di costruire la mappa. Se vai alla fine di un ramo che hai già costruito, noterai che compare un cursore blu, un comando blu. Questo è quello che ti serve per spostare i tuoi rami. Guarda, adesso costruisco questi rami da questo ramo che chiamiamo genitore. Se volessi spostare questo ramo genitore in un'altra posizione, mi basta prendere e trascinarlo dal punto blu. Nota anche qua, mi avevi già notato prima che avevo utilizzato questa funzione. Bene, abbiamo visto quali sono i comandi principali alla fine del ramo. Nel prossimo video andremo a vedere come si può creare un ramo. Ci sono diversi modi.